Un appello singolare è quello dell'assessore all'ambiente Daniele Iaracqua che ha invitato i cittadini a non gettare la spazzatura il giorno di Natale e a ridurre il conferimento nel giorno di Santo Stefano. Tutto questo per colpa dell'ultimo di una lunga serie di intoppi per la raccolta dei rifiuti ormai all'ordine del giorno. Utilizzare al massimo i castagnetti alla raccolta differenziate strade e le isole ecologiche, provare a ridurre e riusare i prodotti evitando l'usegetta e questo l'appello di Iaracqua. Il motivo è presto detto, la discarica rimotta Sant'Anastasia ha comunicato che per le festività natalizie osserverà la chiusura totale il 25 dicembre e la chiusura parziale il 26 dicembre. Per l'assessore questa è l'ulteriore prova che Messina deve al più presto rendersi autonoma e dotarsi dell'impiantistica utile per gestire all'interno del territorio comunale l'intero ciclo dei rifiuti. L'amministrazione comunale afferma all'assessore all'ambiente fin dal suo insediamento ha riaperto il capitolo dell'impiantistica della raccolta differenziata della ristrutturazione di Messina Ambiente. Sta gestendo inoltre il passaggio delicatissimo del sistema auto al sistema SRR, sta perfezionando il piano di intervento dell'auto, ambito raccolta ottimale con il quale si prevede la riduzione dei costi nei prossimi anni di circa 6-7 milioni di euro per raggiungere l'obiettivo di reggia del 65%. Ha sostituto inoltre l'approvazione della delibera rifiuti zero che impegna la nostra città su obiettivi ambiziosi ma possibili. I risultati di tutto questo continua l'assessore e si potranno raccogliere fra qualche mese. Nel frattempo bisogna ottimizzare l'esistente per raggiungere in breve tempo obiettivi ottimali. L'acqua si appella dunque al senso e responsabilità dei cittadini affinché si possa vivere un periodo natalizio sereno e con decoro. Il problema però è che l'emergenza rifiuti non dà tregua alla nostra città persino sotto le festività natalizio. Un problema che genera perplessità se non malcontento nei confronti dell'amministrazione. I cittadini infatti possono autogestire ma un'amministrazione dovrebbe governare.